La miglior arma contro il caro libri è a portata di carrello e rende la spesa più leggera. Anche quest'anno i soci di Unicop Firenze hanno la possibilità di ordinare i testi scolastici accumulando buoni per acquistare prodotti a marchio. E ci sono tante novità a partire dal sito internet dove richiedere i libri fino al 30 novembre. Il servizio approda adesso su Più Scelta. Per cui i soci devono andare su Più Scelta, registrarsi e cliccare sul link il prenota libro. Se si fa la prenotazione i libri arrivano in una o più soluzioni. Al momento del pagamento si presenta la tessera socio e viene accumulato sulla tessera di socio un valore pari al 25% della spesa fatta per i libri. I buoni in spesa sono caricati sulla tessera socio e servono per acquistare prodotti a marchio Coop, Forfiore, Solidal, Vivi Verde e Benessì, Crescendo, Club 410. Lo sconto è scalato automaticamente nella spesa successiva. L'anno scorso 8 persone su 10 hanno deciso di ordinare i testi scolastici online perché i vantaggi sono maggiori. Per chi preferisce richiedere di persone ai testi in oltre 30 punti vendita fino al 21 settembre, i buoni in spesa sono pari al 15% della spesa. Ma le novità sono ancora tante. C'è un'altra novità. Insieme alla possibilità di prenotare i libri scolastici abbiamo inserito anche la possibilità di prenotare oltre 800.000 titoli di narrativa. Per quanto riguarda le scuole primarie? Quest'anno abbiamo inserito la possibilità di prenotare i testi per la primaria in alcuni punti vendita e qui saranno visibili sul sito più scelta il prenota libro. A fronte di una prenotazione e poi del successivo ritiro in punto vendita dei libri verrà dato da parte del Unicop, un carnet di tre buoni da 5 euro l'uno spendibili sul reparto cancelleria dall'immediato fino al 30 maggio 2017. E c'è una riconferma, i libri usati. Chi desidera vendere i suoi vecchi testi scolastici fino al 12 agosto può prenotare la consegna sul sito più scelta e ottenere il 30% del valore di copertina 2015 con un buono spesa. Chi invece vuole comprare libri di seconda mano pagando il 60% del prezzo di copertina 2016 può selezionare l'opzione al momento della prenotazione. È bene ricordare che per tutti i volumi acquistati, nuovi o usati, i soci accumulano un punto ogni euro di spesa.